Ciao e bentornato su Impara da Vinci Resolve e bentornato nella Color Page. Oggi vedremo come sfruttare la profondità di campo ricreata all'interno della Color Page per andare a indirizzare l'attenzione dello spettatore su alcune porzioni delle immagini. Per fare questo sfrutteremo l'effetto chiamato Tilt-Shift-Blare. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Ti invito inoltre a seguire la playlist dedicata alla Color Page di Da Vinci Resolve. Oggi cominciamo a parlare di effettistica all'interno della Color Page. È la prima volta che lo facciamo, però prima di iniziare due precisazioni. La prima è che sto lavorando per la prima volta all'interno dei tutorial dedicati alla Color su questo canale sulla beta di Da Vinci Resolve 17, a parte il video di presentazione di tutte le novità della 17 appunto. Ma questo non vuol dire che le cose che faremo sono ad esclusivo appannaggio di chi ha la versione 17. Lo dirò apertamente quando il tutorial riguarda esclusivamente le nuove funzioni. Non è questo il caso. Ad ogni modo, tutti i tutorial dedicati a delle features presenti solo dalla 17 li inserirò all'interno di una nuova playlist dedicata. Quindi se ti interessano solo le nuove funzioni sulla 17, in dettaglio puoi seguire la playlist che troverai in descrizione e in alto sulla destra nella scheda. L'effetto che analizzeremo oggi, che è l'effetto di Tilt-Shift-Blare, è presente anche nella versione 16. Però questo effetto, come tanti altri, è ad uso esclusivo di chi ha la versione studio di Da Vinci Resolve. Cioè se hai la versione gratuita lo potrai trovare all'interno degli OpenFX, ma ti troverai un bel watermark all'interno del viewer. I tutorial che possono essere seguiti in toto da chi ha la versione studio saranno marchiati, diciamo, nella copertina. Quindi ci sarà proprio il marchietto studio direttamente sulla copertina del tutorial. In pratica il tutorial di oggi è una prosecuzione di quello che abbiamo visto qualche giorno fa, sempre sulla color page, dedicata all'enfatizzazione in correzione colore secondaria di alcune aree dell'immagine, in modo tale da indirizzare l'occhio dello spettatore su alcune zone. Oggi rifaremo la stessa cosa, però cercando di emulare in post-produzione l'effetto di Tilt-Shift, in modo tale da ricreare quell'effetto di miniaturizzazione tipico per questa tipologia di lenti. Un esempio tipico, ad esempio, potrebbe essere la miniaturizzazione di un timelapse di questo tipo. Allora, adesso prendiamo il nostro nodo all'interno del Node Editor, tasto destro, Node Label, e lo chiamiamo Tilt-Shift Blare. Adesso apriamo gli OpenFX e andiamo a cercare nella sezione Stylize l'effetto che si chiama Tilt-Shift Blare e lo trasciniamo nel nostro nodo all'interno del Node Editor. Compare il marchietto FX, vuol dire che c'è un effetto applicato sul nodo. All'interno del Viewer viene attivato l'OpenFX Overlay e quindi qui vediamo i settaggi grafici dell'effetto. Se andiamo dentro OpenFX Settings troviamo l'effetto applicato con quattro sezioni diverse. Il Tilt-Shift Blare include la tipologia di blare applicata, quindi può essere un Lens Blare, quindi una sfocatura da lente, oppure il Fast Blare che semplifica tantissimo le operazioni in quanto non avrò la possibilità di settare la tipologia della lente. Adesso noi scegliamo quello un po' più complicato, il Lens Blare. Qui abbiamo la forza della sfocatura. Adesso già qui vediamo un primo settaggio di base, se aumento la forza della sfocatura vedete che l'ammontare della sfocatura aumenta. Quindi lo riportiamo al default che è quattro. Andiamo ora ad aprire il Depth of Field e qui abbiamo la sistemazione di quella che è la mappa di sfocatura. Cioè se vado ora a cliccare su Depth Map Preview io potrò vedere che nella mia mappa custom, in realtà io posso settarla non solo custom, ma posso basarmi su un canale alfa in ingresso o su un secondo ingresso per dettare la mappa della profondità di campo e la mappa, vedete, è fatta come un canale alfa, quindi la zona bianca è quella di sfocatura, la zona di grigio è la zona di semisfocatura, chiamiamola così, e la zona nera è la zona di messa a fuoco. E qui, con questi comandi, posso andare a sistemare quella che è questa mappa. Ad esempio, con la Y posso spostare la zona di messa a fuoco in alto o in basso, con la X io mi sposto l'asse della profondità di campo, ad esempio io voglio ruotarla su quest'angolo, fisso il punto e poi la posso ruotare. Focus Sweep invece non fa altro che spostare anch'essa l'area di profondità di campo, ma senza andare ad alterare il mio punto di ancoraggio, in modo tale che se io sposto il Focus Sweep e ruoto, io posso andarla a indirizzare in rotazione e in posizione dove voglio. Quindi adesso cominciamo ad andare a piazzare la nostra profondità di campo, andiamo a vedere qual è l'area che mi interessa, ad esempio l'area del motociclista, quindi comincio ad andare a prendere il center Y e lo sposto verso l'area del motociclista, quindi più o meno circa in questa maniera. Quindi io avrò un'area di fuorifuoco qua e un'area di fuorifuoco qui. E adesso qui decido come cambia il passaggio tra la zona di messa a fuoco e la zona di sfocatura. Quindi l'in focus range è un allargamento, un restringimento dell'area di transizione sia in basso che in alto. Infatti se l'aumento vedete che sto aumentando l'area di messa a fuoco in maniera simmetrica sia in alto che in basso. Invece il near blur range vuol dire che è la sfocatura più vicina, quindi è la parte bassa. Quindi se io la vado a aumentare, vedete che nell'area bassa io posso andare a enfatizzare o meno il passaggio. Ad esempio lo rendiamo più secco, il passaggio sulla parte bassa, andiamola a vedere. Qui è un po' più netto e qua lo possiamo mantenere ad esempio un po' più morbido. Quindi posso andare sul far blur range che è questo e mantenerlo un po' più morbido. Ok, andiamola a vedere. E questo è il mio effetto di tilt shift blur. Posso anche scendere un pochino con la Y per portare un po' più basso per prendere anche la ruota della mia moto e allargo un po' la parte del far blur. Ok, perfetto. Adesso la mia moto è sempre a fuoco. Questa è un'area di fuori fuoco e questa è un'altra area di fuori fuoco. Questi parametri sono tutti animabili in funzione anche della mia posizione attuale. e vedete come ho enfatizzato il soggetto rispetto all'immagine di prima. Andiamo a vedere il lens iris che come abbiamo detto è attivabile solamente quando ho lens blur attivato. Questa praticamente mi va a emulare una lente che è in grado di catturare una profondità di campo limitata. Quindi questa è la iris shape cioè la forma dell'apertura dell'ottica quindi può essere circolare può essere triangolare come ad esempio questa oppure ad esempio possiamo scegliere esagonale o qualsiasi altra opzione. La curvatura è la curvatura dei bordi dello shape quindi con più aumento la curvatura con più vengono arrotondati i bordi dello shape questo è l'angolo dello shape e l'anamorfico praticamente mi va a emulare quello che è il cambio dell'aspetto refio un po' come fanno le lenti anamorfiche. Il global blend è semplicemente una fusione con l'immagine originale quindi se voglio ammorbidire l'effetto di tilt shift diminuisco il blend portandolo a zero è come se il tilt shift non fosse applicato. Bene, se hai delle domande sull'utilizzo del tilt shift blur ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno del canale e martedì prossimo per continuare la formazione sulla color page di DaVinci Resolve. Grazie a tutti. Grazie a tutti.